Buongiorno Davido, facendo un po' di rassegna stampa stamattina ho scoperto che ci sono alcuni senatori negli Stati Uniti che stanno discutendo, stanno proponendo di estendere l'export ban che è quello che impedisce a produttori di chip statunitensi di esportare in Cina delle CPU per esempio con una certa potenza ecco stanno proponendo di estendere questo ban anche ai design open source, all'architettura open source perché? Perché la Cina può, e infatti è quello che sta facendo, sfruttare l'architettura open source come RISC-V per prodursi internamente i propri chip che potenzialmente potrebbero anche essere più potenti di quelli statunitensi e questo mi ha fatto un po' pensare inizialmente la reazione è stata ma siete pazzi, l'open source non si può fermare, è una cosa molto idealistica, ideologica ma mi sono poi ricordato che negli anni si è discusso spesso dell'etica nell'open source, del fattore etico cioè molte licenze come per esempio quelle derivate dalla Free Software Foundation non mettono assolutamente in discussione il fine con cui si utilizza un software il software può essere utilizzato per qualunque fine, in qualunque modo, a qualunque scopo eppure il software può essere utilizzato, lo sappiamo benissimo, anche per scopi malevoli quindi per fare il male, se mi concedete questa definizione il problema è che la definizione di bene e male è soggettiva comunque dipende dalla società, dal contesto in cui si vive quindi non è banale, ma la discussione, ripeto, c'è stata e in particolare vi voglio segnalare o ricordare, se non ve lo ricordate un episodio di parecchi anni fa, in realtà, si riguarda un software che immagino molti conoscerete si chiama JSLint questo software era stato scritto da Douglas Crockford e assieme ad altri software che lui aveva creato aveva applicato questa licenza al software che si chiama Unlicense e questa licenza è una licenza estremamente permissiva mi pare derivata dalla MIT ecco, e quindi chiunque può usare, copiare, modificare il software a qualunque scopo il problema è che c'è una frase, c'era anzi meglio una frase in questa licenza e ve la leggo la frase è the software shall be used for good, not evil tra l'altro, good, evil scritti con la maiuscola quindi insomma è proprio il bene supremo ecco, quindi il software dovrebbe essere usato deve essere usato per fare del bene e non per fare del male lo stesso Crockford ha raccontato in un'intervista che IBM, oltre a tanti altri, ma in particolare IBM, gli scrisse gli scrisse più volte, lo sollecitava a togliere questa scritta dalla licenza e con che motivazione? diceva perché noi siamo sicuri che con il software ci facciamo sicuramente del bene ma non possiamo essere sicuri per i nostri clienti e quindi, insomma, diciamo, per sicurezza ecco, se potete togliere questa frasetta perché, insomma, in termini legali potremmo avere qualche problema e lui, insomma, era sballordito da questa richiesta e ricordo che gli rispose gli disse ma allora io concedo a IBM e a tutti i suoi clienti e a tutti i suoi Minion la possibilità di utilizzare questo software anche per fare del male e lui pensava veramente di fare una battuta e IBM gli rispose grazie mille, questa cosa ci tranquillizza molto e in chiudo con questa nota di colore se voi andate sul repo di JSLint, appunto trovate la licenza che, appunto, è il file license ebbene, questa licenza è stata modificata qualche anno fa e è stata tolta proprio la parte incriminata ecco, quindi se voi andate nel changelog non nel changelog, nelle modifiche, insomma, sulla history del file git della license ecco, trovate che la parte con il software che deve essere usato per bene e non per male è stata sostituita da un altro testo, insomma, sempre libero ma non c'è più quindi anche l'attuale JSLint, ecco, può essere usato se voleste, anche per fare del male questo almeno secondo la licenza comunque, ecco, volevo soltanto dirvi questo al di là degli scherzi perché, insomma, alla fine ci si può ridere dietro non è un tema banale, no? decidere cosa è bene, cosa è male per cosa può essere usato un software qual è il fine per cui essere usato un software quindi la discussione, sebbene avvenga da, ecco ambienti non propriamente progressisti del senato americano ecco, però, potrebbe avere un suo senso, no? e adesso passiamo alle news groccanti Allora, partiamo subito con la frizzantezza perché c'è un update corposo alla vicenda di Unity che era un po' di giorni che non ci dava notizie ebbene, ora sappiamo cosa sta succedendo e è successa la cosa grossa cioè, Ricitiello John Ricitiello che era CEO di Unity lo era appunto perché adesso non l'è più si fa da parte si è ritirato ha rassegnato le sue dimissioni e non è più CEO non è più CEO era anche presidente non è più CEO né presidente di Unity quindi, prendo l'articolo di Venturebit e che dice appunto che John Ricitiello si è dimesso dalla compagnia appunto al seguito delle controversie sui prezzi e in una press release quindi in un comunicato stampa Unity ha rivelato che la posizione ad interim di CEO e di presidente è stata assunta da James M. Whitehurst poi vedremo chi è Whitehurst il ruolo di chairman invece è stato dato a Royal of Botta che era un independent director della Unity board e Botta ha rilasciato alcune dichiarazioni ha scritto che lavorare con Ricitiello è stato uno dei momenti più alti della sua carriera che John ha portato Unity a essere leader del mercato ha guidato la transizione da un modello a licenza perenne perpetua a una subscription model ha abilitato gli sviluppatori a monetizzare sa che non hanno ancora ben capito come ci si dovrebbe rivolgere nei comunicati agli sviluppatori comunque finisce con Unity non sarebbe la stessa cosa che oggi senza la presenza di Ricitiello quindi è stato un privilegio ecco e lo statement invece di Ricitiello è il solito insomma è stato un privilegio guidare Unity per circa 10 anni e va bene Whitehurst dicevo che è il CEO ad interim viene invece da IBM ha servito come signor advisor e presidente in IBM e poi ha guidato l'acquisizione di Red Hat in IBM ed è stato presidente e CEO di Red Hat dal 2008 al 2020 quindi un ben lungo periodo ci sono poi le solite dichiarazioni di rito sono confidente lavoreremo insieme al board eccetera eccetera e la nota secondo me interessante a concludere l'articolo è che a breve il 9 novembre Unity uscirà con i dati finanziari del terzo quarter del 2023 che insomma il timing è prezioso Ricitiello se ne va adesso ma a breve per gli investitori c'è un appuntamento importante che è quello appunto dei risultati finanziari e vedremo in altri media per esempio su The Verge naturalmente si copre la notizia vediamo se c'è qualche dettaglio in più per esempio si dice che appunto Whitehurst era un advisor in Silver Lake che è una private equity firma che possiede circa il 9% di Unity e poi si parla di John Ricitiello si scrive che Ricitiello ha appunto gestito la compagnia per nove anni che è quasi metà della sua esistenza in un'era in cui la metà circa dei giochi prodotti nel mondo erano costruiti proprio con questo motore con Unity il problema è che la compagnia non ha mai fatto profitti non ha mai generato profitti e ha perso centinaia di milioni di dollari ogni anno e infatti nei più recenti risultati finanziari Unity appunto ammetteva di avere continuato a generare perdite operative accumulate in 2.7 miliardi di dollari e questo era il 30 giugno del 2023 e insomma Unity a questo punto conclude l'articolo è stata probabilmente costretta ad andare a virare verso il profitto che soprattutto in un momento come questo in cui è più difficile ecco ottenere denaro in prestito su PC Gamer invece che sapete naturalmente copre estensivamente questa notizia ma dal punto di vista dei videogiocatori comunque del mercato dei videogiochi troviamo queste cose in più troviamo per esempio che la compagnia dice che non si aspetta cambiamenti nelle aspettative di profitto da qui in avanti quindi in questo quarter e nel successivo inoltre si ricorda che Unity quest'anno ha licenziato circa 600 dipendenti e ha chiuso metà dei suoi uffici che queste sono tipicamente delle tattiche per incrementare un po' i profitti nel medio periodo inoltre va a guardare un po' i social media e a vedere che naturalmente questo annuncio è stato accolto con grid di gioia e giubilo perché naturalmente Ricitello era abbastanza odiato nel settore era protagonista di una serie di controversie negli anni e ricorda ancora che chiamò gli sviluppatori di videogiochi fucking idiots riguardo al fatto che non che molti non pensavano subito al profitto quando erano lì a creare videogiochi e inoltre infine si ricorda ecco che Ricitello era il CEO di Electronic Arts nel momento peggiore di Electronic Arts nel momento più controverso quando fece la transizione ha un modello di videogiochi sempre online e creò il suo store digitale il suo marketplace chiamato Origin questo fu un disastro per Electronic Arts e nel 2012 Electronic Arts fu votata la peggiore compagnia in America quindi insomma grandi risultati per Ricitello questa per ora è l'ultimo update che abbiamo su Unity ma ovviamente siamo sempre qui a seguire a vedere che diavolo sta succedendo oh e ora visto che l'avevamo fatto per l'iPhone non vedo perché non farlo oppure per i poveri Pixel di Google che anche loro hanno avuto il loro evento di lancio con la novità di Pixel 8 e quindi andiamo un po' a vedere Pixel 8 peraltro mi piace questo nome se avessi un cane lo chiamerei Pixel 8 comunque andiamo a vedere subito quali sono le novità della nuova linea di Pixel e in qualche altro gadget qualche altro hardware che ha buttato fuori Google e lo facciamo grazie a Deverge che si fa il solito recappone vado proprio a rubare tutti i loro contenuti senza pagargli niente ovviamente e quindi iniziamo con il aumento di prezzo di Pixel 8 Pro e anche un nuovo sensore per la temperatura quindi Pixel 8 Pro include il nuovo Tensor G3 il chipset Tensor G3 e inoltre un update alle fotocamere quindi c'è un sensore principale da 50 megapixel un sensore da 48 megapixel con una lente 5x zoom va bene e in più una ultrawide 48 megapixel inoltre c'è questo lettore della temperatura che dovrebbe misurare accuratamente la temperatura di superfici di oggetti e magari in futuro anche del proprio corpo e ha un display da 6.7 pollici come il suo predecessore il prezzo di Pixel 8 Pro è aumentato quindi adesso si trova a 999 dollari questo lo rende 100 dollari più dispendioso più costoso del Pixel 7 Pro precedente ora andiamo al Pixel 8 il Pixel 8 ha anche lui il nuovo Tensor G3 il processore Tensor G3 ed ha un display OLED da 6.2 pollici quindi è un pochino più piccolo del precedente accessore però questo schermo ha un refresh rate di 120 Hz ha una fotocamera principale da 50 megapixel e una ultra wide da 12 megapixel inoltre insomma ha le caratteristiche di AI che vedremo equipaggiate anche sugli altri device di Google anche il Pixel 8 ha un prezzo maggiorato di 100 dollari rispetto alla scorsa edizione quindi lo starting price è di 699 dollari naturalmente questi sono i prezzi in dollari in euro sono ancora un pochino più alti lo sappiamo va bene non avevo voglia andare a vedere quanto sono i prezzi in euro solo di più sappiatelo comunque il Pixel Watch 2 ha nuovi sensori più sensori e un processore migliore il processore è il Qualcomm Snapdragon W5 o V5 non so come chiamarlo e dovrebbe essere più efficiente e quindi garantire una durata della batteria di 24 ore inoltre ci sono nuovi sensori per la temperatura della pelle e il prezzo è di 349 dollari per la versione GPS e di 399 per la versione LTE poi ci sono i Pixel Buds Pro cioè gli auricolari ecco ci sono dei nuovi colori che ci interessano relativamente ma ci sono i nuovi ecco degli avanzamenti nel software nel firmware in particolare verranno anche messe sugli altri Pixel Buds Pro con un aggiornamento del firmware sono una conversation detection quindi una detection delle conversazioni che automaticamente mette in pausa l'audio e spegne il noise cancel in modo da poter sentire quello che c'è fuori e questo lo fa quando si accorge che state parlando quindi questa potrebbe essere un'afficio interessante se funziona bene e inoltre c'è un miglioramento della qualità della voce che si sente in cuffia con quello che viene chiamato Bluetooth Super White Band quindi dovrebbe essere un Bluetooth a una maggior larghezza di banda che dovrebbe rendere il suono più chiaro e inoltre un'afficio chiamata Google Clear Calling ecco aiuta a ridurre i rumori di fondo il background noise durante le chiamate questa roba qua è presente nel Pixel Buds Pro al costo di 199 dollari e 99 cents inoltre naturalmente abbiamo l'arrivo di Android 14 ci porta un po' di roba in più dopo le vedremo meglio comunque in definitiva un supporto alle pass keys qualcosa sul health tracking e inoltre una cosa simpatica che sono gli AI wallpaper quindi dei wallpaper generati dall'IA quindi l'utente può scrivere cosa vuole dal suo wallpaper e questa l'IA va a generarlo in tempo reale quindi avete dei wallpaper personalizzati grazie all'IA e l'ultima caratteristica forse una delle più importanti ecco di questi Pixel è che Google ha promesso sette anni di update di sicurezza e feature drop quindi di aggiornamento di sistema operativo per tutti e due i telefoni per 8 e 8 Pro quindi ci si può aspettare update fino al 2030 che non è male poi vabbè si chiude con il nuovo Google Assistant con la IA integrata l'IA naturalmente è BARD e questa IA dovrebbe entrare un po' nelle app del sistema quindi Gmail Docs e quindi aiutare un po' l'utente a fare cose come scrivere caption per delle foto o vabbè cose che potrebbero essere carine vediamo un po' anche in termini di privacy che cosa ci aspetta aggiungo anche che sull'Android Developers Blog quindi il blog ufficiale dei sviluppatori Android si parla in dettaglio di che cos'è Android 14 della versione AOSP quindi da Android Open Source Project ci sono effettivamente un po' di novità interessanti proprio a livello tecnico di Android non ve li sto neanche a tutti e vi consiglio di andare a leggere il blog post per avere elenco estensivo però si punta molto verso le performance e l'efficienza quindi ci sono un po' di novità riguardo appunto il consumo di risorse da parte delle app per esempio per esempio adesso le app che sono in background consumano molto meno risorse molta meno CPU e questo naturalmente aiuta l'efficienza globale del sistema e inoltre c'è una footprint in memoria molto ridotta cioè vuol dire che la dimensione totale dell'eseguibile Android quando viene caricato in memoria adesso è più piccolo è più piccolo del 9.3% questo senza impattare le performance le performance rimangono uguali ma la memoria è occupata parecchio di meno quindi questo naturalmente aiuta a liberare avere più memoria disponibile ci sono delle cose anche riguardo la user experience per esempio ci sono dei font più grandi si può arrivare al 200% dello zoom dei font prima erano limitate al 130% che è una feature naturalmente importante per l'usabilità poi ci sono nuove novità per i media per esempio il formato ultra HDR per le immagini che è sempre compatibile con JPEG ma insomma offre un HDR ancora più esteso e poi vi do anche sul lato sviluppo ecco sul lato sviluppo abbiamo OpenJDK17 quindi il nuovo Android Runtime è basato su OpenJDK17 poi quello che dicevamo anche prima c'è un supporto alle pass keys con il nuovo credential manager che è appunto una API di jetpack che dà a disposizione vari modi per fare il login la gestione delle credenziali quindi username e password le pass keys appunto e il sign in federato con per esempio sign in with google in una singola API quindi dovrebbe essere molto più facile l'integrazione e poi appunto riguardo la salute c'è questo nuovo health connect che dovrebbe aiutare anche l'utente ad avere un unico posto dove tutte le informazioni sulla salute sono salvate un po' come succede in iOS con l'app salute con tutti i dati biometrici e della salute che sono appunto storati in un unico punto riguardo appunto a feature un pochino presi in prestito da iOS abbiamo anche una maggiore attenzione ai dati che vengono condivisi con le applicazioni quindi nuovi permessi granulari che l'utente deve dare alle app che chiedono appunto dei permessi puntuali come la location e anche l'accesso parziale a foto e video cioè invece di dare l'accesso a tutte le foto del device ora si può dare l'accesso ad alcune foto selezionate quando l'app ne ha bisogno che è un'altra cosa se ho capito bene a cosa si fa riferimento è un'altra cosa che c'è già in iOS ci sono tantissimi altri aggiornamenti quindi andate sul blog Android Developers per leggerli tutti perché se siete sviluppatori Android comunque queste robe dovrebbero interessarvi in chiusura ho trovato un altro bell'articolo su D-Day sempre di Roberto Pezzali che avevo già citato nelle scorse puntate giuro che non è un mio amico ma semplicemente scrive degli articoli interessanti e questo va a farci ragionare sul fatto che i benchmark sui nuovi processori Tensor non sono più quelli che facevamo una volta cioè una volta una volta anche oggi naturalmente su CPU e GPU ci basiamo su benchmark che ci danno dati di velocità di potenza bruta ma con i Tensor non è più così perché i risultati della loro computazione non sono più velocità bruta ma sono quanto riescono a sfruttare la IA per darci degli output migliori ma consumando meno risorse e l'articolo è davvero completo e va anche ad analizzare come è stato costruito il nuovo Tensor G3 ecco per quanto riguarda il chipset che quindi comprende sia CPU che GPU e la CPU è costruita con un cluster 1 più 4 più 4 realizzato con il processo a 4 nanometri di Samsung qui sto leggendo proprio l'articolo ha un core Cortex X3 che va fino a 2.91 GHz ha 4 Cortex A715 da 2.37 GHz e 4 Cortex A510 da 1.7 GHz mentre la GPU è la classica Mali questi sono i classici design di ARM sono ben ottimizzati e svolgono un bel lavoro in generale ma sono soltanto sufficienti dice l'articolo sono sufficienti per quello che deve fare Google con CPU e GPU non si spingono tanto avanti perché poi per i lavori specifici Google ha usato la bacchetta magica la definisce pezzali cioè un nuovo imaging DSP ma soprattutto una nuova TPU una Tensor Processing Unit che è pensata espressamente per velocizzare i modelli AI di Google la nuova TPU del Tensor G3 è secondo Google due volte più veloce di quella usata sui Pixel 6 e riesce per la prima volta a elaborare in locale alcuni modelli di AI generativa realizzati da DeepMind che è un'azienda sempre di Google e Google spiega cioè un virgolettato sono 150 volte più complessi dei normali modelli AI che abbiamo usato in questi anni tra queste c'è il sistema di riconoscimento del parlato che permette anche di tradurre automaticamente in altri linguaggi le pagine web che appunto è un mix tra Whisper di OpenAI e OpenNMT e poi c'è l'IA generativa nelle foto c'è Google Photo che è in grado di ricostruire gli sfondi delle fotografie e ricostruire anche generandoli in base al contesto alcuni elementi mancanti in caso in cui vogliamo modificare un'inquadratura tra l'altro una delle demo che aveva fatto vedere Google era la classica sapete la classica scena dei film di fantascienza in cui c'è una foto estremamente pixelosa e si dice bene aumenta la qualità e la foto diventa super nitida cosa che era impensabile fino a qualche anno fa e adesso è effettivamente possibile grazie all'intelligenza artificiale riesce addirittura a costruire elementi che non si vedono nella foto che mancano ebbene poi in ultimo c'è la possibilità di autorizzare transazioni bancarie con il volto che questo lo fa naturalmente partendo da una foto e la foto sarebbe in 2D ma Google grazie all'AI riesce a ricostruire ci vogliono una serie di foto naturalmente ma riesce a ricostruire poi il volto in 3D quello che dovrebbe fare una scansione LIDAR bene senza la scansione LIDAR si riesce a ricostruire un volto 3D che ha un livello di sicurezza tale che rispetta requisiti elevati senza dover adottare i modelli di Apple quindi una sicurezza che è ancora più elevata dell'impronta digitale quindi se volete un po' vedere tutti questi articoli e perché non ha più senso valutare le nuove CPU e GPU di Google in base a benchmark tradizionale ecco vi consiglio di leggere questo articolo su D-Day a firma di Roberto Pezzali ed era tutto grazie per avermi seguito forse ho messo un po' troppo in questa puntata ma insomma Riccitello è ci stato fuori all'ultimo e non potevo non nominarlo spero di esserci anche domani con un buon giornino poi giovedì invece non ci sarò perché sarò a fare cose a Bologna ma insomma speriamo di salutarci anche domani grazie di nuovo e alla prossima ciao grazie a tutti